bentornati salve a tutti questo è star stable online siamo a cavallo è una battuta di merda peggiore volevo introdurla posso fare una battuta pessima volevo introdurla prima ok oramai è andata però siamo a cavallo davvero si tratta di un gioco essenzialmente per bimbi si appassionante i cavalli state pulire i cavalli come ce ne sono tanti online ce ne è addirittura uno che credo che più o poi recensiremo svedese ti ricordi quello che provai perché ho avuto una grave malattia sui giochi dei cavalli sfociate nel titolo gioppo cinese di alice online quello era fichissimo comunque questo credo che lo scimmiotti un po' alla lontana ci sono altre dinamiche però non è male no non è male per niente i disegni sembrano quelli delle winks ok per i giocatori come potete vedere apri bubella è un giocatore noi siamo meria dark star come wifi a proposito di wifi e di gente idiota che ci iscrive sul canale invito i giocatori di monster hunter in qualsiasi sua incarnazione a smettere di rompere i coglioni ma dai ma ognuno ha le sue opinioni ma se io non ho le tue perché vieni a casa mia a sfasciarmi il zebedei ma non rispondere basta infatti non rispondo però non me ne frega nulla di non distinguere un giandrome da un giaprei da una cacca di mosca va bene non me ne frega niente tu piuttosto che sei una nub perché non sai ammazzare un aggeggio nero l'aggeggio nero era pericolosissimo com'è la cacca di mosca? non lo so merda mosca gente che scrive le cacate era tutto nel calderone torniamo al gioco? ok continuerò a guinare spesso e volentieri su questa agenda comunque ci sono perfino le dailings ci sono le fazioni si è vero abbiamo visto si è molto anche questo gioco molto educational parte educational molto verde nel senso green forte allora abbiamo un cavallo ci avete le vostre cose qui ci vuole un po' di abitudine per capire che vedete il cavallo che lampeggia qui in basso? lampeggia quando cambiate passo passo grazie prego figurati adesso cerchiamo anche di capire che questo dobbiamo fare le queste si guardano al di vicino ah non ho queste le deve andare a prendere una o come no? ah guarda vieni dopo dice dove andate a prendere le dailings vedete? c'hai dei puntini che sbrillucicano sulla mappina credo che quando ho cliccato qui ah comunque andiamo a vedere i puntini così li facciamo vedere si tutto si gioca intorno alla cittadina la cittadina di moorland diciamo subito che non abbiamo ancora imparato a saltare no perchè si fa parte del tutorial esatto quindi non lo possiamo fare si credo che il cavallo voglia essere pulito così li facciamo anche vedere vedete qui in alto queste icone? vuol dire che lo dobbiamo pulire e dai davanti ora lo puoi fare in ogni dove? no solo nella stalla ok allora andiamo alla stalla anche la muschina carina questa icona qui dice che siete dell'autostalla siete on the road e potete andare un pochino più veloci ecco ci fermiamo qui così vi faccio vedere una cosa nel pannello che vedete qui quello con le bandiere a scacchi si prendono le quest delle corse era facilmente intuibile di diverso livello poi si possono fare qui dentro oppure intorno quelle blu sono le dailings andiamo a pulire il cavallo quello che tu non sei riuscito a fare in un'intera giornata si avevo sbloccato così imparano a leggere le quest per andare di fretta ecco vedete quando ruota qui attorno vuol dire che potete pulire il cavallo potete fermare anche qui scendere da cavallo scendere ovviamente aprire l'inventario e utilizzare sul cavallo l'iconcina vedete? ci ho messo una giornata di impararlo adesso li sto facendo odiare da tutti quelli che sono dietro di me allora alcuni consumabili vanno ricomprati tipo il mangiare e per forza il bere pure mi pare forse posso ricaricare il secchio ci voglio andare a provare anzi l'hoof peaking pulite gli zoccoli credo che ci siamo si il cavallo sta pulito vedete? pronto pulito qui ci sono i vendor vedete vedere c'è una quest da prendere si al secchio al pozzo al pozzo posso usare il secchio usare il secchio nel pozzo piuttosto che il pozzo nel secchio dipende dai punti di vista forse devi scendere da cavallo no devo prendere aspetta clicca così forse devi scendere da cavallo forse devo comprare un secchio possibile? più facile ci penseremo la prossima volta che dobbiamo andare a mangiare la cavallo probabilmente da un vendor qualsiasi si copre un secchio vediamo vedere il vendor e proviamo ecco questo busibulla bravi tutti ma questo ho vinto la giacchetta verde all'inizio con quello forse ci dà delle quest bla 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 questo che ci dà? le luci ah ok questa è la ripetibile si vediamo questi vendori vediamo questo signore sbrilluccicoso che ci dà? no niente forse a quello di là? eh voglio riprendere tutti cosa troviamo? penso proprio di si anche qui si vengono rivestiti no a quell'altro dall'altro lato? oppure forse il secchio ti rimane vuoto questo qui ah una volta vuoto si una volta vuoto una volta vuoto credo che tu possa si ok una volta vuoto credo che si riempia per quelli che pensano che siamo degli esperti che questa è una recensione mi state sbagliate come direbbero nelle nostre parti ma tanto si andiamo a spegnere le luci e finiscila voglio fare una forza veramente ah ok va bene così faccio una bella di merda senza poter saltare ti ricordo si si credo che ci sia anche per i livelli si la costa di velocità nob vedi roba riding track start ah da qui proprio prendi partenza via si che la musichetta a tema sai che durante che ci ho giocato non avevo la musichetta a tema nel senso che non avevo le cuffie eh sbagliatissimo ah a proposito di cuffie quelli che dicono non sento non si senti alzate il volume perché adesso è impossibile dovremmo aver risolto infatti i problemi di volume adesso per i primi video vi possiamo dare ragione ma i primi un anno fa guardateli anche le date dei video eh forza e coraggio hop 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 perché ogni tanto il cavolo rallenda che si stanca eh ti ho capito questo cavallo devi dire che devi fare hop 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 infatti non ho fatto un gran tempo diciamo pure che hai il cavallo base che sarà proprio una mezza schifezza ha fatto il mio personal messo e beh non è la tua prima corsa no ok cioè questo ci ho messo 1.02 c'è gente che lo fa in 45 secondi e abbiamo capito top ever 40 secondi dai non è oggi mi sono piazzato di 44 secondi vabbè non è infattibile come cosa è meno infamissima la mia prestazione cioè forse vogliamo appunto ok prendo cosa ho preso? vinto niente? no forse hai preso dei punti esperienza possibile che sarebbe la barra qui sotto che vedete è gialla questa l'exp e facciamo vedere anche la chat che c'è ovviamente che è questa sei friend stable chat gruppo club perchè il club è la gilda qui c'è proprio un bloccato qui c'è proprio un bloccato che facciamo? che facciamo? andiamo verso la damascus mine? ah possiamo andare a prendere l'altra lei lei la questa dipende gli oggetti gli oggetti in altizio ok però facciamo il giro da qua sotto va bene si è molto educational questo gioco lo dobbiamo dire molto per i bimbi ovviamente noi ci giochiamo ci divertiamo ma no io ho mia vergogna però voglio dire dentro la miniera che c'è e andiamo perchè quello che ho letto in giro è anche molto cioè nel senso che si sblocca le zone puoi esplorare ti danno dei punti perchè esplori infatti stasciando a cominciare la scelisca se vuole lui sei ah diciamo perchè ho cominciato a giocarci grazie per il pure lui eh scusa perchè mi sono accalati due pensieri il pensiero di perchè ho iniziato a giocarci perchè mi hanno chiaramente mi ero iscritto nella famosa fase malattia per giochi dei cavalli e ehm mi è arrivato un amico che diceva che avevo vip premium torno a giocare non ho letto mi davano un link ho detto vabbè tanto male non fa non è un porno ehm ci sono tornato vediamo la scadenza di questa settimana se rimane giocabile in questo modo cioè se rimane free si ehm gli facciamo fare una puntata anche al nostro The Major al nostro sindaco ovviamente e poi convinco anche lascio a farsi un account così si questo credo che c'è anche dal talento c'è un piccolo problema logistico ah qualsiasi computrino di questi che ho qui va se non è bellissimo ah andiamo su alla miniera vedete se riesco a sedere esploriamo la miniera vai mi fa sedere qui mmm mmm molti cappotti dai dai su cavallino no cioè adesso cadi all'indietro ok però che stormblood sei il cavallo è un cavallo è un cavallo è un cavallo a livello 2 che pretendi non si esalta Diciamo che hai anche tu insistito perché si facesse la recensione di questo gioco Sì sì, mi è piaciuto, no, mi è piaciuto Mi è molto piaciuto Poi a me queste cose educative mi piacciono assai Comunque questo gioco Credo Star Star Conflict Penso che sia il caso di iniziare Una serie sul giocare in tempo di crisi Sull'obage, su computer vecchi, giochi per bambini Sì, anche perché in molti ci dicono, ci chiedono Ma io ho questo computer, bla bla bla, una mezza cacchina A cosa posso giocare? O posso giocare a questo? C'è lì qualcosa di sbrilluccica Sbrilluccica, sbrilluccica Si appannano gli occhi, mannaggia Ah, il rumore che si... Ah, devi scendere forse No, Mining Peak che non posso segno Non ce l'hai? Ah no, posso segno Ma perché non lo occupai da cavallo? Perché forse si mina da in piedi Sarebbe brutto Dove vai? Non lo so Quello che sentite è la signoria del mio cellulare A cui non ho intenzione di rispondere Speriamo di riuscire anche a silenziarla Ok Perché stai andando al contrario esattamente? Perché non riesco a girare... Ah, perché ho le dita messe al contrario per la stiera Manco Tiziano Volevo farvi dimostrare le capacità di movimento di questo computer Sì, certo Forse come fai per il cavallo Eh, infatti Allora potrei minare la sua al cavallo Però l'animazione fa bocca a ca Prova a vedere da sopra al cavallo Se te lo fa fare Perché spostarsi al cavallo impone un determinato tipo di... Eh beh Era troppo improbabile E poco veritiero ed onesto E tu non ti sei muovere Questi camminano un po' con la testa bassa O mi sbaglio? Sì, è un po' un problema camminare Un po' sgobbati Oh, hop, hop Andate a cavallo Non è che non sapete camminare Oh, guarda come le animazioni degli umani sono Eh, va bene Diciamo che non sono i forti di quasi nessun gioco No Però qui Ok, l'animazione va bene Va bene tutto Però E il gioco in sé che è carino L'idea che c'è Insomma Ci piace Abbastanza Per essere un gioco da iniziare ai bambini Secondo il gioco in sé E ecco qui Condition fulfilled E quando? Così facciamo vedere che vaffanculo i soldi sono andati spesi bene Sono per Quando avete concluso la quest Non posso pensare che stiamo facendo una puntata su questo tipo Il puntino verde sulla mappa E dove si deve andare a riportare Sì È abbastanza un classico Che sia il tizio Lo stesso tizio a cui dobbiamo riportare Quell'altra Sì, noi facciamo anche l'altra Proviamo La mappa generale La mappa grande mi ha lasciato un po' Facciamola vedere È questa Che è un pochino piccola Dimostra che il mondo di gioco è molto grande Sì E a me invece ha colpito una cosa in particolare Il fatto è che ci sono davvero davvero tanti giocatori Guardate Queste sono tre fazioni Sono dei club Guardate i giocatori che ci sono Da queste parti, sì No, guarda dove sta Ah, lì su Lì c'è una quest da prendere, mi sa Ah, da solito sì Dobbiamo prendere un'altra quest Vedi Diciamo, le quest non sono proprio il forte Però credo che non sia nemmeno un quad Credo che sei anche livello 2 Insomma, ecco Sì, vedete Ah, così vi faccio vedere anche le zone a cui per adesso siamo intretti Vedi, il tizio è passato Noi se non facciamo un determinato livello Non possiamo andare Ovviamente Ah, get the bulldozer poveri via Capiremo dove fare questo Lì giù Dove? Verso est Da questa parte Di qua C'è una mappina Fa un po' fatica Diciamo che poi potete metterci la sala Ve lo faccio vedere Questo siamo noi Qui è il cavallo Le deputazioni con le varie fazioni Abbastanza base Sì, gameplay Gioco carino Guarda, meglio di come si chiama la schifezza che abbiamo nei censitori Quello è il platform Il Mario degli MMO Sì Il Mario Dragon Ball Sì Browser No, non era browser Oh sì Sì, browser game Sì, browser game Anche questo in teoria è un browser game Nel senso che si è avviato a browser Ma allora anche Vindictus è avviato a browser game Per esteso Proprio come si stia a sforzare Sì, c'è un pizzo che dobbiamo ridare una cosa Qui, sì Eh, va un po' pianino sto cavallino effettivamente Però è felice Allora, poi una pulita Ho speso adesso, deve pulire Level up Quindi c'è anche il craft questa Perché questa era una quest di craft Che cosa mi ha dato? Hai capito come Che non ci avevo fatto caso all'orologio che ti indica Che non la puoi fare per questo Esatto Che carino Non ci avevamo fatto caso ieri Andiamo a fare l'altra quest A fare il bulldozer Sì Dove ci sta il... Abbiamo visto le luci qui Abbiamo fatto Vedete? Quello che diceva animalista C'è qualcuno che vuole fare un cantiere in questa foresta E allora c'è tutta questa pippa animalista Ambientalista Sì Quindi noi impediamo un certo tot di avvenimenti Sì Il bulldozer credo che sia questo Questo qui sopra Per stare non dovremmo anche spegnere le luci qui No, quella è un'altra quest Ma l'ho presa Quella delle luci Sì No, quella era il gps Sì, quella era il gps Sembra una delle luci però Eh vabbè Quindi noi oscuriamo il passaggio Al bulldozer E quindi non si può Non si possono abbattere gli alberi Anche questo dobbiamo fare? Abbiamo detto Mi pare nessuna Ma bisogna andarla a ridare Controlliamo un po' Da veterinario Eh dobbiamo No vedi Get bulldozer Eh l'abbiamo fatta Tutte e due Go to the construction site Quindi devo andare al construction site Che è questo qui Abbiamo fatta solo una Devo chiedergli il bulldozer Ah qua sopra Ah che ieri non ci potevamo venire Ti ricordi? No ci siamo venuti Ci siamo venuti Però non abbiamo concluso niente E sono uscito sotto Abbiamo fatto che lo colgo Col tizio Il tizio è in giacca e cravatta Un classico Costruttore Guarda le scarpe Attenzione Vedi? Mi da un'altra questa Ci chiedi di fare qualcosa Per mandare Giù il bulldozer Ok io direi che possiamo salutare Sì Direi di sì E alla prossima puntata Ciao Ciao a tutti